Buongiorno maestro, io sono il salutatore, sono il suo grande estimatore e le chiedo un saluto per tutti i suoi fan del bagaglino. Ciao! Ecco, le regalo la manina del salutatore, questa è la manina mia del salutatore per salutare tutti i suoi fan. Salutiamo? Ciao! Ciao, grande maestro, ciao! Venga!